buon salve amici e amiche della voce del caprone benvenuti a questo mio secondo secondo video questo nuovo video sui migliori dischi o meglio i miei dischi preferiti di ottobre 2023 come al solito prima di iniziare vi dico sempre di entrare su telegram nel canale della voce del caprone dove uscirà poi questo video questo video uscirà anche su youtube ovviamente al contrario del primo che all'inizio l'avevo messo solamente su telegram poi l'ho messo su youtube e come al solito lì trovate tutto trovate tutto in descrizione trovate soprattutto oltre al canale telegram in arrivo sto progettando il sito dove prenderò tutte le cose che avevo messo su substech quel substech lo chiuderò e metterlo tutto sul sul sito che praticamente ci sto lavorando una cosa importante fra l'altro se volete supportarmi economicamente potete farlo tramite donazione libera su ko-fi trovate tutto in descrizione ma anche su su telegram ovviamente allora previso che non sarà un video mega lungo come quello del dei dischi di settembre perché ottobre a livello di uscita è stato un pochino più un pochino meno caldo rispetto a settembre dove è letteralmente uscito il mondo a settembre invece facendo un calcolo rapido qua sulle cose che ho segnate qua su su notion una dozzina di dischi praticamente più poco meno della metà rispetto alle robe che erano uscite a settembre che erano veramente un casino era tipo una trentina di dischi erano usciti a settembre invece ora a ottobre ci siamo un pochino calmati allora partiamo subito sempre in ordine alfabetico poi magari metterò qualcosina per per segnare quello che è stato il mio disco di del mese di ottobre il mio disco preferito del mese ottobre ma partiamo subito sempre in ordine alfabetico con eeeh elshetu e voi direte e chi cacchio è elshetu chi cacchio sono gli elshetu anzi allora gli elshetu praticamente sono un progetto nato a fine 2021 da parte di due artisti francesi un artista concettuale che si chiama void e un compositore che si chiama sacr praticamente hanno creato questo progetto chiamato elshetu e hanno l'intento di interpretare musicalmente la concezione della morte focalizzandosi dopo il disco su disco praticamente ogni disco si focalizzerà su una religione o su una civiltà differente per esempio il loro primo disco che è xibalba o xibalba allora non lo so come si dice ma penso xibalba praticamente il focus su questo disco è sulla civiltà maya dove praticamente hanno interpretato un il testo sacro che è il popol vu che ha dato anche il nome al famoso gruppo krautrock telesco degli anni 70 vabbè sapete comunque bel disco molto 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 evocativo perché praticamente l'idea di void e alisac era di fare qualcosa molto cinematica c'è molto tipo non lo so da cinema appunto scorretto dire cinematico ma vabbè avete capito qual è il senso comunque del progetto e fra l'altro è segnato sul metal archives come progressive black sì e no sì e no è un po' atmo un po' pro io direi avant garde più che progressive vabbè non è quell'avant garde che conosciamo tutti quanti però comunque qualcosa di difficilmente catalogabile mettiamolo così fra l'altro in questo disco non è tutta farina del sacco di secre che è il compositore principale del gruppo ma ci sono anche gli apporti di due pezzi da 90 non da poco come vinceval di bluetooth nord ma soprattutto la zara di sole faldo quindi non nomi di 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 sede b anzi qua siamo proprio sede a a a a tantissimo comunque disco molto molto interessante sono curioso di sentire magari i prossimi del progetto perché sulla carta del progetto mi mi attirano un poco quindi andate ad ascoltare si balba dei riscetti se volete qualcosa di molto evocativo ve lo consiglio se cercate quel tipo di black molto evocativo ovviamente trovate tutto trovate i link ai bank camp del in descrizione qua sul video e ovviamente anche sul telegram poi passando dalla francia all'italia è uscito il nuovo golpe o meglio il nuovo ep dei golpe di tazio perdersolli riprende sempre il discorso del primo full che è la colpa è solo tua che è molto bello come disco è il classico disco punk hardcore proprio che ti dà le mazzate di quelle serie ti fa scapocciare a mai finire testi molto ancorato sociale tra ingiustizia e mal politica del nostro paese e ce n'è come da parlare giusto da questo punto di vista comunque ep che consiglio soprattutto ai cultori del genere tipo quel punk hardcore con di beat queste cose qua fortemente radicalizzato se cercate se volete qualcosa del genere è il pane per i vostri denti però per tutti gli altri se volete qualcosa di bello di bello peso che dà la carica secondo me che bello peso che dà la carica e che vi fa ragionare questa è la cosa questo non è più che consiglio passando dagli dall'italia ai paesi bassi che sapete che sono uno dei miei paesi preferiti a livello di di scena musicale il nuovo luster che avevo citato pure nel video precedente è uscito under man's mine voi sapete che vabbè se mi seguite da tempo sapete che i paesi bassi per me hanno la scena black metal più interessante degli ultimi anni e under man's mine non faccio azione è un gran bel disco bellissimo disco soprattutto ha delle linee di basso proprio al bagio bellissime l'unica cosa che posso dire magari che mi aveva sorpreso più il precedente che era Etwas Nug ma perché è stato forse il primo disco che mi ha avvicinato alla scena alla scena black metal olandese insieme a a Bloem dei Fluisterars quindi ci sono più legato rispetto a questo nuovo però questo qua è veramente un ottimo 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 disco attenzione perché questo è veramente un gran bel disco ascoltatelo se volete roba pazza completamente fuori schema ve lo dovete ascoltare questo nuovo luster poi parlando di robe più tradizionali questo è un disco che fra l'altro non mi aspettavo scisse perché non ho letto news da nessuna parte il nuovo Malocarpatan cioè Bertumnus Caesar o Caesar anzi che è uscito tre anni dopo il precedente del Krupischeone che mi era piaciuto però forse era troppo prolisso sotto certi punti di vista e invece questo mi è piaciuto molto di più di Krupischeone fra l'altro il Malocarpatan per chi non lo sapessero sono slovacchi si sono slovacchi e fra l'altro la provenienza geografica è anche qui molto molto importante perché questo è un disco di black tipo black prima ondata a livello musicale un po' primi aero madele ma soprattutto molto 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 legato ai Masters Hammer loro se avete presente se avete presente Ritual dei Masters Hammer quello è il genere di musica di questo nuovo disco di Malocarpatan molto solido testi ovviamente tutti in lingua madre consiglio se avete voglia di sentire un po' di black della prima ondata mettiamola così quindi tra fini 80 primi 90 prima che arrivasse la seconda data quella norvegese diciamo quel black un po' grezzo diciamo mettiamola così poi questo 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 amici questo qua ne ho da dire ne ho da dire perché già a metà video ve lo dico adesso questo è il disco del mese di ottobre l'avevo già un pochino anticipato nel finale del video dei dischi di settembre ma questo era questo è probabilmente l'ultimo disco che aspettavo con con Ardora del 2023 cioè Forte and the Evil di Marte e non ne sono minimamente rimasto deluso ma proprio per niente questo disco non ha un attimo non ha una nota che non mi sia piaciuta cioè già i due singoli che erano la title track e to ruin to ruin d'artars erano stupende ma anche le altre tracce che non erano state pubblicate come singoli sono incredibili veramente Marzia che è la la è questa one woman band tutta italiana è riuscita a fare praticamente il disco più battery che sia uscito da quando è morto Quarton non sto scherzando questo disco è la roba più battery che possa esistere nel mondo della musica attuale e dico anche un'altra cosa se non fosse uscito Black Medium Current dei The Dime Guard questo sarebbe il mio disco dell'anno quindi per dire quanto mi è piaciuto Forte and the Evil di Marte ascoltatelo che veramente è un disco proprio al bacio veramente stupendo 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 e restiamo sempre in tema femminile questo è un disco mamma mia cioè io ho paura a parlare di questo disco ho veramente paura ho veramente paura perché non so trovare non so come descriverlo questo disco sto parlando di Saved della reverenda Christine Michael Hater la full lingua ignota anche questo era uno dei dischi che aspettevo di più in assoluto ottobre forse era secondo solamente il disco di Marte come disco tra quelli che aspettavo usciti ad ottobre posso dire che è l'ultimo disco che mi sono tenuto la parte ad ascoltare nel listone l'ho ascoltato tipo pochi minuti fa ho finito di ascoltarlo quindi proprio la mia esperienza è completamente fresca e vi giuro non so come descriverlo questo disco e non so nemmeno se consigliarlo questo disco non sto dicendo che è un disco brutto attenzione non sto dicendo che è un disco brutto anzi secondo me è un disco incredibile perché la Hater è una delle artiste ma proprio a livello artistico migliori degli ultimi vent'anni secondo me a livello artistico diciamo che se voglio fare volessi fare un paragone a livello di arte concettuale è un po' come come Marina Braumic lei può piacere e può non piacere ed è giusto così che piaccia o non piaccia la musica che fa ma se vi piace sto disco l'unica cosa che posso dire è che sto disco mi ha fatto cacare addosso dalla paura non sto scherzando mi ha inquietato come qualcosa dal mondo cioè già sarebbe da dire che Caligula e Sinner Get Ready che mi hanno lasciato un'angoscia dentro di vivere mi hanno angosciato da morire anche se sono due tipi di angoscia completamente diversi Caligula è molto pesante Sinner Get Ready è un po' quell'angoscia da ok sto toccando il mio punto più basso ora posso solamente risalire Saved è un po' la risalita cioè allora c'è da dire tra l'altro una cosa che adoro di questo disco è la tecnica di registrazione perché è stato fatto con solamente voce e pianoforte preparato con corde campanelline e via dicendo voce e pianoforte e poi tutte le registrazioni sono state fatte su un vecchio registratore a quattro piste che poi queste registrazioni sono state rovinate su proprio a livello analogico sono state rovinate da vecchi registratori tipo rotti o cose del genere quindi quelle parti dove c'è proprio il le parti rovinate proprio si sentono le parti rovinate dei pezzi non so voi a me inquietano da morire come inquietano da morire i momenti di glossolalia tipo non lo so persone possedute o via dicendo cioè lo dicevo poco fa ad una mia amica questo disco è il death pierce me dei silencer fatto da una fervente cristiana è letteralmente questo per fare un paragone col wrestling sono le prime vignette della firefly fan house di bray wyatt pace all'anima sua che si sembravano innocenti tranquilli però c'avevano quel sottotesto horror inquietantissimo che ti metteva una ti faceva paura perché ti inquieta cioè questo disco è squilibrato è il mariano giusti della musica questo disco è è una roba allucinante già il primo secondo del primo pezzo mi ha fatto cacare addosso dalla paura perché non me l'aspettavo all'inizio così vi giuro ascoltatelo questo disco se avete voglia delle robe più sperimentali possibili incatalogabili questo disco veramente incatalogabile ascoltatelo però preparatevi perché vi caccate addosso dalla paura io non sto scherzando sono inquietato veramente christine mi è inquietato cioè sei un artista della madonna però io non ce la faccio sentire più di una volta i dischi della hater perché veramente mi cacco addosso dalla paura parlando di cose più normali il nuovo sunopfer siamo sempre su territori praticamente il loro quarto disco questo nous sommes d'air si chiama siamo su territori black metal medievali un po' se avete presente i connazionali paymans quelli di ordalì che è stato fra l'altro il mio disco del 2022 ordalì è un disco incredibile veramente stupendo quindi siamo sempre lì quel tipo di black metal medievale battagliero a livello lirico stupendo questo è un ottimo disco non arriva a livelli di ordalì perché vabbè ordalì è un discone della madonna però questo se avete voglia di quel tipo di black metal medievale alla avemans vi piace sicuro quindi lo consiglio assolutamente quindi questo nous sommes d'air dei desunoffers pollice in su senso brevi dubbio passando all'italia allora nuovo disco di vertebra atlantis che non mi aspettavo fra l'altro uno dei tanti progetti del anzi o meglio lo spin off di di cosmic putrefaction eccolo mi è venuto in mente perché prima la parte che ho tagliato non mi veniva in mente come si chiamava cosmic putrefaction cioè quindi gabriele gamaglia grande il mio omonimo che è un cazzo di genio veramente torna con il nuovo disco di vertebra atlantis che è a dialogue with the iris sublime uscito per la solita i void anger records che sapete che è una delle mie case discografiche preferite degli ultimi anni quindi disco veramente veramente bello sul quindi qua siamo su territori black death sperimentali che nella immensa sconfinata gelateria del metal sapete che è uno dei miei gusti preferiti in assoluto siamo praticamente in territorio gorguts mettiamola così ma ho apprezzato tantissimo pure il tappeto sinfonico un po' emperor devo dire però bello 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 a pelle gli preferisco più il primo che era l'ustral purge in serial bliss che era un discona della madonna che mi aveva fatto proprio il cervello proprio così però questo ottimo davvero avercene veramente di dischi di questa qualità perché proprio avercene soprattutto dei compositori come il dottor gramaglia perché porco giuda veramente come fa a fare robe così eccezionali io non lo so ha una mente incredibile quest'uomo e chiudiamo con l'ultimo disco di ottobre ve l'ho detto che questo era un video più più corto cioè american gothic dei wayfarer quinto disco per loro che tornano dopo gli ultimi due sono veramente veramente dei grammy dischi cioè words blood e a romance with violence loro hanno una tematica che mi piace molto trovo molto originale perché praticamente se non conoscete wayfarer fanno un atmospheric black metal praticamente legato ai temi del far west americano e mi piace moltissimo fra l'altro la nota che c'è nell'orban camp per descrivere questo american gothic loro per l'american gothic intendono un mondo pieno di trivelle per il petrolio baroni delle ferrovie elati di bestiame dirigenti di grosse compagnie che si stavano formando in quegli anni del far west questo escurimento fra l'altro nella nelle nei testi nell'atmosfera di questo nuovo disco di wayfarer si sente tantissimo soprattutto in pezzi tipo The Cuttle Thief che secondo me è il più bello del disco è un ottimo disco che fra l'altro conferme il loro buonissimo momento e vi dirò secondo me loro i wayfarer sono il gruppo americano più ispirato degli ultimi anni a livello musicale loro al momento non hanno avuto cadute di stile come hanno avuto altri loro connazionali tipo per esempio Iwada o i Wolves in the Throne Room per fare due esempi che per quanto si hanno avuto tipo delle cadute di stile però si sono ripresi loro invece The World's Blood non hanno più sbagliato niente American Gothic è la conferma di questa di questa mia analisi e niente questo era l'ultimo disco di ottobre 2023 che mi è piaciuto davvero poi altri vabbè ho sedito qualcos'altro ma non mi ha convinto al 100% come nel video precedente vi faccio una rapida una rapida carrellata di dischi in uscita in questo mese cioè novembre ovvero No Outark che esce esattamente fra una settimana che esce il 10 novembre io sto registrando che oggi è il 3 e oggi fra l'altro il 3 che fra l'altro è Ben Camp Friday oggi quindi comprate comprate le robe sto dicendo comprate le robe del Ben Camp Friday ma questo video sicuramente uscirà dopo il 3 quindi che cacchio dico comprate a fare le robe del Ben Camp Friday non lo so ma vabbè comunque fra una settimana circa uscirà il nuovo Outark sempre sul black sperimentale olandese quindi vabbè mi lascio immaginare oggi è uscito il nuovo Silken che siamo sul black pure qui tipo prima ondata del black un po' Batorino lui molto interessante il 24 il 24 novembre esce il nuovo Cruciamentum quindi sul death metal un po' bello scuro quello che piace a me oggi non me lo aspettavo è uscito il nuovo Il Scar quindi black metal danese è una scena la scena danese molto sottovalutata secondo me perché ci sono delle robe interessanti loro soprattutto a livello lirico mi piacciono tantissimo perché praticamente stanno facendo la storia della Danimarca della Danimarca rinascimentale però in forma black metal molto interessante andatevi a ascoltare il loro primo disco che è The Ransom and Hat The Ransom and Hat The Ransom vabbè eccetera non lo so il danese comunque il loro primo disco andatevi a ascoltare che secondo me è eccezionale è uscito oggi il nuovo disco che si chiama Blue The Yearn sono curioso dell'ascoltare il 24 dovevo uscire il nuovo qui è il Jayst che sono curiosissimo avevo sentito tipo avevano pubblicato un pezzo di uno dei tipo un trafiletto del loro di uno dei pezzi nuovi del disco semplicemente interessante devo uscire a proposito d'Italia anzi è uscito già perché è uscito oggi il nuovo Mortuary Drape a proposito di leggende del Black Metal Italiano ed è uscito anche il nuovo Nase Nase Hall è uscito proprio oggi Serpent's Abyss si chiama il disco e sono curioso per ora solamente queste cose da ascoltare in novembre poi magari andando avanti trovando cose interessanti qualcosa ci sarà e bene dai bene dai quindi questi sono i dischi di ottobre se devo consigliarne uno come dicevo prima Forty Renewal di Marte mamma mia è un disco mamma mia veramente la borra Antonella la borra quel disco incredibile e niente ci vediamo al prossimo video pezzo ai primi di dicembre poi faremo tireremo verso pezzo gennaio febbraio tireremo le somme per quello che sarà il sarà il mio listone dei dischi più belli del del 2023 ma non l'ho detto poco fa il disco più bello penso che non cambierà ma vedremo dai tutto può succedere ma andatevi ad ascoltare Black Medium Current che è un capolavoro vabbè alla prossima amici